Amiche e amici di All4Shooter, buongiorno, siamo a EOS, a Verona, allo stand di Chiappa, con noi c'è Giada Chiappa, che ci parlerà di queste interessanti armi non letali per difesa abitative. Ciao a tutti. Vi lascio una parola. Ciao. Quest'anno abbiamo introdotto un nuovo modello nella nostra gamma di LTL, Less Than Little, modelli per la difesa abitativa in primo luogo, sono armi pronte all'uso in modo che una volta che si va a portare la bomboletta di CO2 all'interno della guancia, con una semplice pressione sul fondello andiamo a rompere la membrana e solo in quel momento l'arma potrà sparare. Quindi abbiamo qua le palle che vengono fornite con questa tipologia di arma, palle in gomma, gomma dura oppure in acciaio rivestito. Questi modelli partono da circa 140-130 euro al pubblico a seconda delle varie configurazioni.